Ok, rovino per Ant Bully una vita da formica Ruolo della formica terrorizzata numero 1697 Correte, si salvi chi può Il distruttore sta arrivando Sono terrorizzata Grazie È il distruttore Vieni con me se vuoi vivere Expetto patronum Fì sbagliato Scappate, scappate Mi scusi? Come si? Lei non è una formica, vero? Divento formica Mi dispiace, a noi serve una formica rossa Divento rossa È il numero 1697, se becco il distruttore, io lo faccio a feste Potete crederci Oh no, il distruttore è arrivato per annientarmi perché ora sono una formica Mi scusi, si è per caso dipinto di rosso? No Sì Senta, in questo film c'è un bulletto e tante formiche Che mi dice del ruolo del bulletto? Sono incredibile, guardi, guardi questo Piacente, il ruolo di bulletto è già stato assegnato Oh, a chi? Sei solo un bambino, tanto sei carino Oh, santo cielo Tutto ok Stop